io l'ho ricevuto con molta sorpresa devo dire che mi ha fatto molto piacere naturalmente perché perché dopo una vita passata qua a Bologna quindi io sono arrivato qua per studiare e poi naturalmente mi sono formato finalmente posso dare qualcosa restituire qualcosa a questa città che è veramente diciamo dal punto di vista almeno per quanto ci riguarda veramente all'avanguardia quindi sono molto contento di avere questo riconoscimento